Tractus Tractus, uno spazio diviso in settori da un tratto preciso, ordinato, riporta quest'opera ad un linguaggio grafico. Il metodo materico resta confinato negli spazi assegnati e si evolve grazie all'uso del fiore. Strumento nuovo capace di assorbire maggiore diversità, riordinandola all'interno di una struttura logica e rigida. Uno sfogo di colore all'esterno altera la percezione dell'insieme.